Ciao ragazzi, benvenuti sul canale Strength for Running. Sono qui con il mio grandissimo amico Jonas, a fare una corsa in questo fantastico posto Montesorate. Vai! Strength for Running. Allena la forza per migliorare la corsa. Ragazzi, siamo dentro una grotta totalmente al buio, con i pipistrelli attaccati sul soffitto, fantastico, fantastico, guarda. Media salita, 33%. Ciao a tutti Strength for Running. Mio nome è Jonas. Jonas? Sono svedese, ma Diego è il mio migliore amico. Sì, vero. Jonas è il mio migliore amico, il numero uno, il più forte. È verità questa. È verità. Adesso io... Lui seguire lei su Montesorate perché lui mai corsa qui. Lui italiano, ma mai corsa qui. E' piccante. Piccante. Oh, piccante. Scusami, è italiano. No, non perfetto. Ma... Ma... È molto divertito. Diverto. Qua. Sì. È molto, molto. Pertolico! Wally. Che prova del Sicurio è grande, quello è attrò? Nei... Ebbene, passiamo. Alla Doesnzeit. Lo tanto, là v depressioni. Wow, vai! Ma è molto importante, molto importante percorso di Bruno. Diego sempre parla. No, cingale! Ah dai! Ok, cingale. Diego sempre parla con un forte, forte, molto muscolare. Ma numero uno percorso è questa parola in Italia molto difficile ma divertente. Sempre un rider per tua bocca. Si, è molto molto importante. No, no strength training, no. No palestra allenamento. Sempre un... Ok, vero. Ciaojamelo! Oh excelmente! Ehi, dovevamoョ asciugare Job frame e rimando il trasformandante? N- Cloudestra ed Gergios。 cerchio? Clicking. Uff! Mamma mia! Incredibile! Wow! no bellissimo perché Diego ciao ciao Diego Diego ricopero treposo pesci torre finché torre Sì, sì!